I mercenari hanno rapito un dirigente della Roxxon e l'hanno imbottito di esplosivo. Se ti vedono, lo faranno saltare. Tic-toc. Sarò veloce e silenzioso. Shhh. 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 Hey, non dare a scurma, Jason. È stato divertente. Sei lì, vieni fuori. State concentrati! Spider-Man è qui! Che carini che sono quando dormono. Sono colpito. Eppure sembra che tu voglia uccidermi. Non ora. Ho ancora molto da imparare. Se mi scopro, l'ostaggio è spazzato. C'è safe! C'è... Non fare caso a me! Restate qui e non muovetevi. La polizia sarà qui a breve. Se mi scoprono lo sta già spazzato. Che carini che sono quando dormono. C'è qualcuno lì? Se sei lì... Notte, notte... C'è qualcuno? Adoro le sfide. Specialmente se vinco. Sarò veloce e silenzioso. Per oggi il turno è finito. Sono bloccato! C'è qualcuno l'ha colpito. C'è qualcuno l'ha colpito. C'è qualcuno l'ha colpito. Grazie a tutti!